Benvenuti ragazzi, qui Aldi. Oggi andremo a vedere 10 youtuber nascosti negli show tole visivi. Vi vedo ad iscrivervi al secondo canale tutto dedicato al gaming che trovate in descrizione a seguirvi su Instagram e tutti gli altri social. Attivate la campanella per non perdervi nessun video. Raggiungiamo i 500 like per questo video. Numero 10 Sam Pepper, prima di diventare uno dei pranker più adati su YouTube, era un volto conosciuto e ben voluto in Inghilterra. Nel 2010, prima di fare il suo primo video su YouTube, Sam Pepper faceva parte della undicesima stagione del game show britannico Big Brother. È entrato a far parte del gioco nella 52esima puntata e vi rimase per ben 21 puntate. Numero 9. Numero 8. Miranda Sings l'avrete sicuramente vista, soprattutto se conoscete la sitcom Victorious della Nickelodeon. Infatti, la nota youtuber con oltre 7 milioni di iscritti è comparsa nella puntata in cui la protagonista vince il provino per l'apertura del Platinum Music Awards e la casa produttrice la obbliga a dare di matto e a vestirsi in modo strano per farla diventare famosa prima di salire sul palco. Numero 7. Todrick Hall, uno youtuber con più di 2 milioni di iscritti, prima di approdare sulla piattaforma, ha provato a far parte del famoso talent show American Idol. Nel 2010, infatti, fa la sua apparizione sul palco del talent show, prima che iniziasse a far video regolarmente. E per quell'occasione aveva scritto una canzone specifica per i giudici. Con questa canzone ricevette ben 4 sì, ma non riuscì a vincere il talent show. Numero 6. Bo Hurman è un comico che non pubblica costantemente, ma nonostante ciò è riuscito a superare un milione di iscritti. Nel 2014 apparso nello show Pranks and Reactions, precisamente nella seconda stagione. Numero 5. Adam Conower ha un canale di gaming con più di 50 mila iscritti, ma è conosciuto per i suoi lavori sul canale True TV, dove ha caricato la serie Adam Ruiz Everything. Ma ovviamente non è solo uno youtuber, anzi, molti di voi lo avranno già sentito in quanto doppiatore nella serie Bojack Horseman. Ha lavorato su questa serie per ben 14 puntate e potete sentire la sua voce chiaramente nella sigla di Horsin' Around. Numero 4. Sufficiently Advanced è un canale nel quale vengono ricreate armi dei film nella vita reale, come le spade laser. Per questo motivo è stato invitato a far parte di un game show a core in onda che ha come scopo quello di trovare i nuovi Mythbusters. Se non conoscete il classico Mythbusters vi state perdendo qualcosa di sensazionale. Nel classico Mythbusters viene proposto un mito e dimostrato o spadato con la dimostrazione scientifica. Un programma epico. Purtroppo il proprietario del canale è già fuori dai giochi dopo solo tre puntate. Numero 3. Jake e Logan Paul hanno iniziato la loro carriera da comici su YouTube, crescendo moltissimo con i loro sketch e scherzi. Ma successivamente Jake è entrato a far parte del cast di una nuova serie Disney, These Are Dark. Lo show parla di due ragazzi che cercano di fare video per un'ipotetica piattaforma chiamata Blue Girl. Nel settimo episodio Logan fa la sua apparizione con il nome di Kirk. Numero 2. Non solo Jake e Logan fanno parte di questa serie, infatti anche Lilly Singh è apparsa nello show, ma, a differenza di Logan, lei ha interpretato se stessa, o meglio, il suo personaggio su YouTube. Numero 1. Come non nominare quando nel 2014 PewDiePie è apparsa in un episodio di South Park. L'episodio riprende quello che è il mondo del gaming su YouTube, con persone che giocano e commentano videogame, ed altri che guardano i gameplay. Ovviamente PewDiePie ha interpretato se stesso il gaming su YouTube, mostrando giochi come Advanced Warfare e Dragon Age. L'episodio è ben fatto e, a mio dire, bellissimo nel contesto di South Park. Bene, ragazzi, io come sempre vi ricanço tantissimo per la visione, vi ricordo di Lasciate un like e un commento di condividere Se non siete ancora iscritti iscrivetevi Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video Ciao